Una serata che mi viene da dire per certi versi ha lasciato alcune sorprese per quanto riguarda chi ha vinto i premi soprattutto meno specifico al miglior contributor alla crescita del mercato bisogna un po' leggerlo così ma nonostante ciò insomma anche voi siete riusciti a mettervi in mostra ci vuole direi ci mancherebbe altro infatti siamo comunque siamo contenti del dei risultati ottenuti abbiamo portato a casa due due primi posti e un secondo posto poi ovviamente non nascondo che le aspettative che avevamo erano aspettative abbastanza alte pensavamo di classificarci meglio su alcune categorie non è andata così ma comunque insomma i risultati sono arrivati tre premi un miglioramento anche rispetto poi a quelli che erano stati i premi dello scorso anno quindi comunque ci riteniamo soddisfatti scusate però l'innovazione voi l'avete fatta quest'anno in diversi modi più e più modi come first mover come idea di nuovo prodotto su questo riccardo guarda io secondo te ecco non siete neanche nei primi tre qual è la motivazione che ti sei dato allora sicuramente ecco capacità di innovazione era una categoria su cui personalmente io ma anche giacobo puntavamo molto perché abbiamo come detto tu emesso diverse strutture innovative da un certo punto di vista mi viene in mente ecco il cedola fissa airbag i primi a lanciarli ormai sono strutture apprezzate anche altri mittenti le hanno riprese con successo altrettanto successo i primi a lanciarli siamo stati noi a febbraio 28 febbraio se non sbaglio ma penso ai premi condizionati al 10 per cento nella fase di mercato estremamente volatile anche quello penso esatto assolutamente assolutamente ma anche insomma diverse diverse soluzioni che abbiamo che abbiamo proposto ad esempio non so mi viene in mente il maxi coupon con airbag abbiamo quotato il maxi coupon con airbag che ecco era una cosa che non si vedeva tutti i giorni sul sul mercato principalmente perché poi il maxi coupon è pensato solo per la maxi cedola poi ecco abbiamo puntato su prodotti che invece potessero essere ottenuti in portafoglio più a lungo quindi sì ma ci aspettiamo di almeno essere tra i primi tre non è stato così sicuramente ecco il punto è che magari l'investitore che vive la realtà da fuori quindi che compra il certificato magari per un motivo per un altro non non vede quel certificato non vede quell'emissione non sa che il primo ad emettere i cedola fisso airbag è stata fontobel e ovviamente poi quello dipende dal prodotto che compra dall'emittente di quel prodotto dall'idea che si fa che si fa il pubblico quindi sicuramente anche da quel punto di vista è normale che l'investitore e il pubblico esterno non conosca tutte le dinamiche delle dinamiche interne poi ovviamente c'è anche la considerazione fatta dalla giuria hanno ritenuto appunto più interessanti altri altri prodotti va bene così ma noi siamo comunque soddisfatti dei risultati ottenuti e dei premi e dei premi vinti ce li faremo l'anno prossimo cercheremo di proporre strutture ancora più innovative nel prossimo anno e puntiamo a quel premio sicuramente su questo dobbiamo assolutamente fare un remind anche agli amici che seguono investi ecco il pubblico da casa può anche votare viene poi la giuria degli esperti chi sono questi esperti nomi e cognomi che sono allora guardiamo diversi sono diversi gli esperti ad esempio c'è gabriele gabriele bellelli che noto trader investitore formatore sul mercato italiano che appunto uno dei dei membri della della giuria di esperti mi viene in mente ecco ad esempio c'era michele fanigliulo l'anno scorso adesso non so se anche quest'anno credo di sì come esperto appunto del settore quindi lui fanigliulo attualmente lavora per per intermonte quindi si è incontro anche si è anche anche lui fa come dire che voi entrate nella giuria ma non è però ecco un emittente quindi comunque poi alla fine il premio lo prendono gli emittenti quindi ci sta che a votare all'interno della giuria ci siano sia esperti trader formatori che utilizzano i prodotti tutti i giorni sia anche ovviamente altre controparti tra cui ad esempio mi viene in mente michele fanigliulo che comunque ecco ne mastica di certificati tutti i giorni quindi una giuria sicuramente diversificata con diverse diverse figure appunto del mondo che rappresentava gli investitori c'era qualcuno che rappresentava gli investitori retail in questa giuria guarda non non so dirtelo sinceramente riccardo se c'era qualcuno a rappresentare proprio la giuria la 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 clientela diciamo a quell'investitore non ricordo tutti i nomi in giuria sinceramente quindi non non so non so dirti se ci fosse proprio uno a rappresentare l'investitore non credo ecco tra le motivazioni che vi hanno portato a primeggiare anche nel premio al cj un aspetto che però è una medaglia d'onore mi viene da dire perché è il servizio anche alla clientela almeno questo avrà riconosciuto sì no questo è un premio di cui infatti andiamo estremamente orgogliosi perché da quando siamo qui io e Jacopo puntiamo ovviamente al cliente il cliente è sempre al primo posto per noi quindi come diciamo sempre poi ad esempio all'investitv a fine puntata potete contattarci in qualsiasi momento siamo sempre a disposizione chiariamo qualsiasi dubbio telefonicamente o per mail quindi siamo sempre pronti diciamo ecco a tranquillizzare il cliente che molto spesso magari ci chiama con dubbi o perplessità noi siamo sempre pronti a diciamo siamo sempre dalla loro parte un'altra cosa sicuramente è la cura ecco del del sito la vita che hanno ecco in qualche modo migliorato quella che è la diciamo l'esperienza del dell'investitore nel nostro sito stiamo inoltre lavorando alla realizzazione di un sito completamente nuovo che è già uscito su alcuni mercati quindi che è già disponibile per altri mercati non quello italiano e in teoria entro la fine dell'anno riusciremo a farlo uscire anche per il mercato italiano quindi anche da questo punto di vista ci stiamo ci stiamo lavorando molto un sito completamente rinnovato più moderno più facile più intuitivo più più veloce ed è sicuramente anche una delle caratteristiche che ci ha permesso poi di di vincere questo premio quindi oltre all'assistenza al cliente anche la cura del sito la cura delle comunicazioni riportate sul sito relative poi ai ai vari prodotti grazie a tutti Grazie a tutti